Buongiorno a tutti, vieni Blu, vieni qua, aspettate ragazzi perché non è molto semplice, vieni Blu, lo accompagno io piano piano, mettiti qua Blu un attimo, non l'ho mai fatto parlare il napoletano, però forse conquistato, tutto a posto. C'è una sensibilità particolare quando si doppia, ci si attacca agli occhi, Blu è un personaggio che mi somiglia tantissimo per il suo essere imbranato, per il suo essere continuamente fuori posto, quindi è stato per me piacevolissimo proprio doppiarlo, perché mi ci sono rivisto in alcune cose, è sempre difficile, anche se poi io in effetti all'attivo ho più film doppiati che non film praticamente in live action, quindi è stata una bella avventura, difficile ma comunque una bella avventura. La domanda sorge spontanea, ce l'avevi l'amico immaginario quando eri più piccolo, ce l'hai ancora? Voi ce l'avevate l'amico immaginario da piccoli? È una cosa molto poco italiana, sì, ce l'avevo anche io, ero me in miniatura, cartone animato, che riusciva a fare tutte le cose che io non riuscivo a fare, cioè lui era bravissimo a parlare con le persone, era bravissimo nelle interrogazioni a scuola, io ero una frana, però vederlo mi motivava tantissimo e riuscivo a trarre molta ispirazione da lui, quindi sì, ce l'avevo, come ce l'avevate? Sì, era Maradona ma ancora non lo sapevo. Vabbè, allora rimango in tema Maratotti, facciò così. È anche un po' nostalgico perché poi effettivamente Blu all'interno del film soffre un po' il fatto che il suo bambino l'abbia un po' dimenticato, non del tutto altrimenti sarebbe scomparso, però è un personaggio che soffre tanto all'interno del film, un po' come tutti gli amici immaginari. Ecco, ho incontrato John Krasischi, come ti ho detto qualche settimana, il tuo amico, il tuo grande amico, peraltro mi ha detto, oh, ridi che mi devi ancora quei 10 euro della pizza. La prima domanda che gli ho fatto è stata, hai fatto finalmente un film per le tue figlie, anche tu sei papà, e la soddisfazione, sapete che quando un giorno vedranno Yves la voce è quella di papà, quanto è grande? No, è grandissima la soddisfazione, io ho fatto vedere il trailer quando è uscito a mia figlia che è qui e che saluto, non so dove è in questo momento, perché adesso siete tutti una silhouette per me, e ecco, è lì, ciao amore, ti amo, e aveva, era super felice di vedere il trailer, di vedere il personaggio, aveva quegli occhi proprio, sai, super sgranati, con la meraviglia di sentire la mia voce su blu, è stata una bellissima soddisfazione. Poi io e lei giochiamo tantissimo con le voci, lei è un'altra molto molto brava a fare le cocine. Io l'ho scritto anche su un mio post, noi vivendo abbiamo questa fretta di abbandonare troppo presto il bambino che è dentro di noi, perché è normale, perché siamo presi dalle responsabilità, siamo presi dalla vita frenetica, le bollette, tutto insomma il lavoro che è difficile, questo mondo in cui viviamo, però per quanto si possa credere questo è un film per bambini, in realtà è un film che io consiglio a tutti gli adulti, perché credo sia veramente importante continuare a guardare il mondo con gli occhi di un bambino, altrimenti veramente è finita, sì. Grazie.